Maria Ghiuva Revisore Buongiorno a tutti! Immagino che molti di voi si stiano chiedendo Cosa ci faccio un ragazzo come me su questo palco? Eh, tranquilli perché me lo sto chiedendo pure io. Ma vorrei partire da due domande. Sapevate che l'Afghanistan da qualche anno sta sperimentando dei progetti di agricoltura cittadina? O per esempio sapevate che dal 2003 l'Afghanistan ha ricevuto più di 80 bilioni di dollari per lo sviluppo del suo paese e della comunità internazionale? Beh, io tutto questo l'ho scoperto con la mia esperienza a Rome Model United Nations. Ma partiamo dalle basi. Che cos'è esattamente un Mune? Beh, un Mune è una simulazione delle Nazioni Unite che coinvolge giovani e studenti da molte parti del mondo che si riuniscono per discutere dei precisi problemi in determinate commissioni che riprendono appunto la struttura delle Nazioni Unite. L'obiettivo qual è? L'obiettivo è quello di far vivere come protagonisti delle relazioni internazionali tutti i partecipanti, ma anche quello di produrre idee e documenti innovativi che poi l'ONU riceve e può analizzare. Ma cos'è stato il Rome Mune 2014? Beh, il Rome Mune è stato 2.000 partecipanti da tutto il mondo, 5 giornate di durissimo lavoro, più di 50 paesi rappresentati. Ovviamente esistono simulazioni delle Nazioni Unite in tutto il mondo. Esiste infatti un Mune a Roma, a New York, a Vienna, a Ginevra e ovviamente il Mune più famoso, quello più conosciuto, è quello a New York, presso il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite. Ma lì c'è stata la mia amica Ilaria, quindi io vi parlerò della mia esperienza a Roma. All'inizio vi ho parlato dell'Afghanistan. Perché? Perché mi sono ritrovato a doverlo rappresentare come delegato assieme ad una ragazza conosciuta pochi mesi prima su Skype. Infatti a Rome Mune non è sempre possibile scegliere quale paese si può rappresentare, nemmeno a quale commissione appartenere. Quindi dal Consiglio di Sicurezza ONU all'Agenzia delle Telecomunicazioni, a noi avevano affidato la Food and Agriculture Organization, la FAO. Cosa sapevamo sull'Afghanistan? Praticamente niente, se non quello che molti di voi già sapranno. Tre parole. Guerra, terrorismo e petrolio. Quello che abbiamo cominciato a fare quindi, io e Catrina, questo è il nome della ragazza austriaca che ho conosciuto su Skype, è stato quindi un lavoro di ricerca. Volevamo insomma capire quale fosse la posizione dell'Afghanistan rispetto a cooperazione internazionale, stabilità politica e economica. Volevamo capire poi quale misure potessimo mettere in campo per lo sviluppo agricolo del paese. Ma per quello che volevamo fare noi, questo ancora non bastava. Infatti, la nostra commissione aveva come grandi temi di discussione due principali topic. Il primo, food security. Il secondo, urban farming. Cosa stanno a significare? Beh, food security sta per sicurezza alimentare, quel problema cioè che molte popolazioni nel mondo vivono ancora perché non riescono ad autosostenersi per un anno o per lunghi periodi. E' un problema quindi che interessa paesi poveri proprio come l'Afghanistan. Il secondo topic, urban farming, sta invece ad indicare tutte quelle misure che possono essere prese in considerazione dai governi per poter far vivere in modo più dinamico l'agricoltura per i propri cittadini. Pensate ad esempio ad autoprodursi un orto nel proprio giardino o per esempio ottenere degli animali che producano latte, uovo o comunque alimenti che le famiglie possano riutilizzare. Qual era il problema? Che immaginatevi quale potrebbe essere l'interesse di paesi come Stati Uniti, Cina, Inghilterra, Belgio verso un tema come la food security decisamente basso rispetto al potenziale anche di investimento economico che ci può essere nella sostenibilità anche nei loro paesi. Il problema quindi che si delineava era che si creavano due schieramenti, uno composto da paesi come noi con scarse risorse economiche, scarsa stabilità politica e un altro schieramento composto dalle grandi democrazie, da grandi paesi con possibilità di parlare di sostenibilità. L'obiettivo quindi che c'eravamo posti io e Catrina era quello di puntare la discussione più sulla sicurezza che sulla sostenibilità e l'obiettivo rimaneva quello di ottenere più voti possibili a questo progetto piuttosto che all'altro. Data la situazione di stallo abbiamo pensato di rivolgerci a chi sicuramente dell'Afghanistan se ne intendeva e abbiamo spedito un'email agli uffici dell'ambasciata afghana a Roma. Due giorni di attesa e riceviamo una risposta. Due tazze di tè e dei pasticcini, il vero delegato per la FAO dell'Afghanistan ci riceve nel suo ufficio, ci consegna una pila così di documenti da studiare e qualche consiglio che ci potesse permettere di essere più convincenti e più preparati durante la conferenza. Come potete vedere dalle immagini qui dietro, dal nostro primo speech introduttivo nella camera abbiamo cominciato a ricevere una quantità immensa di note private dagli altri paesi per esprimere solidarietà al nostro progetto, per esprimere commenti, per richiedere informazioni su quali risorse potevano utilizzare per poter votare insieme delle misure. Il difficile di questa parte della simulazione infatti è il lavoro diplomatico. Cosa significa? Che è necessario saper trovare compromessi con i vari paesi, è necessario saper mediare, cedere su certi temi e forzare su quelli più importanti. Un buon delegato infatti non deve concentrarsi tanto sul scrivere subito un buon working paper, un progetto di risoluzione, ma più avere sempre il desiderio di confrontarsi, apprendere, aprire possibilità. Noi siamo abituati a vedere la diplomazia con le sopopere americane come House of Cards o quelle inglesi come The Tick of It, ma in realtà diplomazia è saper mediare per condividere e costruire insieme. Dopo qualche giornata di lavoro, tantissime notti insonni e moltissimi innumerevoli caffè, alla fine il nostro progetto di risoluzione è stato messo al vuoto. Cinque sono stati paesi che hanno votato contro, circa 90 quelli a favore, pochissimi gli astenuti. Avevamo sbancato letteralmente. Questo risultato eccezionale che ci ha permesso di vincere un premio della Commissione per aver prodotto quella che è la risoluzione, cioè un documento che riassume le decisioni della Commissione sui temi trattati, ci ha permesso appunto di vincere questo premio, ma c'era molto di più, perché, come vi ho detto all'inizio del mio talk, l'ONU riceve tutti questi documenti e può effettivamente analizzarli. Qualche mese fa ho sentito Catrina su Skype un'altra volta e mi ha raccontato che aveva terminato i suoi studi e aveva conseguito un Master in sviluppo internazionale. Ma la vera notizia era che l'ONU, gli uffici di Ginevra, l'avevano chiamata per un'offerta di lavoro. Ora, molti di voi si faranno la mia stessa domanda. Cosa è rimasto come studente di corso di laurea triennale a te come esperienza? Beh, sicuramente a me è rimasta tantissima voglia di rimettermi in gioco, di ritrovarmi in quel clima di lavoro, di ricerca, di impegno e di multiculturalità. Tanto che lo scorso agosto ho preso un treno da Bologna e sono andato a Vienna. Altra simulazione, altro contesto, altro paese, questa volta la Norvegia, altra commissione, questa volta il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e la certezza che noi giovani questo mondo possiamo e dobbiamo cambiarlo. Vi ringrazio. Grazie a tutti.